Il difficile non è fare il bene, ma farlo in maniera continuativa, perseverando nell'adempimento dei comandamenti. Ed è solo perseverando che potremo raggiungere il cielo. E questi due consigli che vedremo oggi ci faciliteranno molto la pratica della virtù e il perseverare in essa. Vediamo quindi quali sono. Buongiorno, mi chiamo Somalia Maniscalco, benvenuti nel canale, gli angeli sono con noi. La dottrina cattolica ci insegna che nessuno può adempiere tutti i comandamenti in modo duraturo senza l'aiuto della grazia. Ora, Dio dà sempre la sua grazia a chi la chiede, a chi la cerca. Ma che cos'è la grazia? Essa è, e sto citando il Catechismo della Chiesa Cattolica, essa è il favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà perché rispondiamo al suo invito. diventare figli di Dio, figli adottivi, partecipi della natura divina, della vita eterna. La grazia è una partecipazione alla vita di Dio, ci introduce nell'intimità della vita trinitaria. Fine citazione. Se io attraverso il battesimo ho ricevuto la grazia di Dio e non ho perso questa grazia, o se l'ho persa e mi sono pentito e mi sono confessato, allora Gesù Cristo vive in me. È una presenza attiva. Questa presenza, questa vita di Dio che opera in me, può essere maggiore o minore, a seconda dei mezzi che uso, come ci insegna Don Shotard in questo libro che è un vero tesoro, l'anima di ogni apostolato, e che specialmente oggi ogni cattolico dovrebbe leggere, dovrebbe avere. Vi lascio in descrizione il link alla versione PDF. Questo libro ci mostra come rimanere, come perseverare nella virtù in mezzo a questo mondo tormentato, in mezzo a questa vita frenetica fatta di impegni uno dopo l'altro. Quest'opera ci mostra come far fruttificare le nostre azioni e come non lasciare che le azioni dominino la nostra vita spirituale, ma fare piuttosto il contrario, fare di nostro Signore Gesù Cristo, che vive in noi mediante la grazia, fare di Lui la fonte delle mie opere, la fonte delle mie azioni esteriori, compreso il mio apostolato. Quindi tutti coloro che fanno apostolato dovrebbero leggere questo libro. Ma dicevo, Don Shotard dà due consigli d'oro. Ce ne sono diversi in questo libro magnifico, ma ve ne sono due che voglio trasmettervi oggi e che parlano proprio della perseveranza. E iniziamo, dice così. Devo seriamente temere di non avere il grado di vita interiore che Gesù esige da me. E distingue due elementi. Primo, se tralascio di accrescere la sete di vivere di Gesù, sete che mi dà il desiderio di piacere in tutto a Dio ed il timore di dispiacergli in qualche modo. Due, se non ho più quel minimo di raccoglimento che mi permetta, durante le mie occupazioni, di conservare il mio cuore in una purità e generosità sufficiente perché non sia soffocata la voce di Gesù, che mi mette in guardia dai fattori di morte che si presentano e mi invita a combatterli. Un minimo di raccoglimento è indispensabile. Nostro Signore, attraverso la Madonna, gli angeli, le circostanze, ci parla sempre. La domanda è, lo ascolteremo o no? Scrive Don Shotard. Ora, questo avviene certamente se non faccio più uso dei mezzi. Ed ecco il primo consiglio d'oro, mettere in pratica certi mezzi, certi strumenti, che sono la preghiera del mattino, la messa, i sacramenti e l'ufficio, gli esami di coscienza particolare e generale. Quando arriviamo a fine giornata, dopo cena, invece di accendere la televisione, facciamo un piccolo esame di coscienza per ricapitolare la giornata e vedere dove posso aver scontentato nostro Signore. Un altro mezzo è la lettura spirituale. Per esempio, questo libro qui è una delle letture spirituali più preziose che io conosca. Oppure, se per mia colpa, essi non mi apportano più alcun profitto, conclude Don Shotard. È quindi necessario mettere in pratica questi mezzi. È bene ascoltare una lezione, un video come questo. Certo, aiuta, ma non possiamo fermarci solo a questi mezzi passivi, perché quando leggiamo, quando ci fermiamo a leggere, a meditare, a riflettere, diamo qualcosa di noi stessi, collaboriamo con la grazia, agiamo e non ci limitiamo a ricevere informazioni, video dopo video, informazione dopo informazione. Quindi, se un video fa bene, ognuno deve dare qualcosa di sé per santificarsi. E l'esame di coscienza che la persona fa è qualcosa che un video non può fare al posto suo. A volte un video può anche aiutare in quella direzione. Ma la persona deve raccogliersi e fare l'esame di coscienza da sé, lontano dal computer, dalla televisione, dal cellulare, da tutto il resto. Senza vita interiore raccoglimento, prosegue Don Shotard, i peccati veniali verranno a pululare nella mia vita, senza che nemmeno me ne renda conto. Per nasconderli, o perfino per non lasciar trasparire uno stato ancora più lacrimevole, l'illusione si servirà dell'apparenza di una pietà più speculativa che pratica, dello zelo per le opere da postolato, eccetera. Sto facendo molte cose, sto distribuendo molti volantini, molte medaglie, eccetera. Molto importante, ma non posso usare questo come una scusa, o come un pretesto, per non fare quello che devo fare dentro di me. La mia unione col nostro Signore è ciò che conta di più. E ripeto, i santi angeli, soprattutto gli angeli custodi, hanno il ministero specifico di ricordarcelo sempre. Ecco, questo è uno dei due consigli per perseverare nella pratica dei comandamenti. Passo ora al secondo consiglio d'oro, che ci dà molta speranza. È un consiglio di cui dobbiamo costantemente ricordarci. Dice così, in qualunque stato io mi trovi, se voglio pregare e diventare fedele alla sua grazia, Gesù mi offre tutti i mezzi per ritornare ad una vita interiore che mi restituisca la sua intimità e mi permetta di sviluppare la sua vita in me. Guardate, questa è una verità consolante, estremamente consolante, e aiuta molto perché a volte pensiamo che non ci sia più nulla da fare, che non ci sia più speranza. Allora, dice l'anima di ogni apostolato, nel progredire l'anima non cesserà di possedere la gioia anche in mezzo alle prove e si realizzeranno in lei quelle parole di Isaia. Allora la tua luce spunterà come l'aurora. Presto verrà la tua guarigione. Ti preverrà la tua giustizia e la gloria del Signore ti proteggerà. Allora tu pregherai e il Signore ti risponderà. Appena alzerai la voce, egli dirà, eccomi. E il Signore ti darà eterno riposo e inonderà la tua anima di splendori e darà vigore alle tue ossa. E tu sarai come un giardino irrigato e come una fontana di acqua viva alla quale non mancheranno mai zampilli. Isaia 58, 8-11. Quanto appena detto vale per tutti, per tutta l'età, per tutte le condizioni, per tutti. Se prego e voglio corrispondere alla grazia di Dio, Dio mi darà tutti i mezzi per ritornare nella sua amicizia e raggiungere le vette della santità. Ah, ma io ho già 80 anni. Che importa? Se siamo ancora vivi è perché il nostro Signore è ancora un progetto per noi. Ecco quindi questi due consigli d'oro che spero vogliate mettere in pratica. Bene, per oggi è tutto. Ricordatevi che potete lasciare le vostre intenzioni di Messa cliccando sul primo link che trovate in descrizione. E se desiderate supportare questo apostolato con un aiuto materiale, cliccate sul link che trovate nel primo commento per entrare a far parte del gruppo Apostoli dei Santi Angeli. A tutti chiedo e prometto preghiere. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a sabato. Che Dio vi benedica.